Alienazione Ho letto che per Jean-Jacques Rousseau l'alienazione è il momento della fondazione dello Stato giusto e razionale in cui ciascun cittadino rinuncia a diritti e volontà particolari a favore della volontà generale. Commento Non esiste un solo momento dell'alienazione ma un periodo molto lento, lungo e sofferto in cui i cittadini, consumando prima il proprio io individuale e poi quello collettivo giungono ad immedesimarsi in uno Stato più giusto e razionale.